Ciao a tutti! Videotutorial su come presentarsi nella lingua italiana. Ciao! Come ti chiami? Si usa nelle situazioni informali. La risposta è... Mi chiamo Marta. E tu? Ed ecco un esempio pratico. Ciao! Come ti chiami? Ciao! Mi chiamo Laura. Piacere di conoscerti. Piacere o piacere di conoscerti è l'espressione usata sia nelle situazioni formali e in quelle informali. Nelle situazioni formali diremo Buongiorno! Mi presento. Sono Marta Verdi. Ecco un esempio pratico. Buongiorno! Mi presento. Sono Marta Verdi. Piacere. Mi chiamo Laura Rossi. Piacere di conoscerla. Il videotutorial sulle presentazioni in italiano è finito. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Videotutorial è over. See you for next video. Ciao! 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 Ciao!